sangue della tempra oh grazie trofeo ah e qui ovviamente non c'è niente ragazze mille del mondo il consiglio della vita mi ha dato Dante ok chi è che parla? ah lui posso attiarlo? beh ah no vedi che ci sei riuscita beh Dante mi ha dato il consiglio tuo triangolo per curarsi grazie green crawler scusate se sono un po' ritardata sì è non è una filastrocca quella di Susanna il dente le cascò no? quella là non era una canzone una cosa sconcissima poi non mi piace molto non c'è un'altra strada ma dov'è che vanno tutti? qui chiuso c'è un posto per me nel vostro party qui c'era uno mi sembrava di ricordare no? è andato via ah questo è l'incenso quindi qui c'è qualcuno sicuro? non mi sembrano molto contenti dentro quella casa con il fucile li puoi storire mentre ti attaccano e poi gli puoi fare il contrattacco con il fucile li puoi storire mentre ti attaccano e poi gli puoi fare il contrattacco no scazzato scazzato troppo corto troppo corto troppo corto ce l'hai corto ma non è che ce ne sono degli altri di qua che poi tornano indietro mi maciullano no e la peppa ma è un aiutino no va bene cercando di impregarmi eh cercavi di impregarmi eh ok ok era già morto ok era già morto ma qui ce ne sono troppi come si fa cercavi di fregarmi eh qui non c'è nessuno come ti chiamerò Susie certo che mi puoi chiamare Susie Dante anzi scusami se non leggo molto i vostri messaggi ma devo dire non mi accorgo neanche che mi arriva la notifica perché sono talmente occhi a palla che oh 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 brutta 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 ma che schiata però è bellissima quest'arma da massi ciao ciao di nuovo no lo dico di nuovo scusatemi se non vi cago molto ma non è cattivega è che sono davvero ma si andiamo lì il posto più bello è dove andare vero mamma mi è santissimo beh come si suppone che ma è l'epic fail della vita eh sto cane ok magari meglio non stai proprio lì proprio di fianco fare il giro sopra da dove sei sceso ok ah ma il problema è che non posso più salire che cretina che sono mamma mi è santissima dai finché arrivano una volta posso farcela e finché questo qui non sfonda la porta posso farcela tempismo sbagliato sbagliato ti odio ti odio curati no mi telefonano proprio adesso no 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 il telefono no 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 il telefono no ditemi che qui sono sicuro perché devo rispondere al telefono tu non ci sono tu non ci sono tu non ci sono Ahhhh! Oh, God. It's all you fault! Uh, this is a bad thing. Ahhhh! All that stuff, don't cry! Aw, God. Aw, God. I don't say that. No Oh Oh Ragazzi scusatevi se giocavo come una ritardata Ma la mia telefonata è praticamente stata Ah sì come Ok Riuscire a giocare mentre si Mentre si telefona non è facilissimo Allora la domanda era Quante volte sono morta? Due o tre volte Credo Sì vabbè ma non voglio Vabbè senti fa il culo di Molotov Sì vabbè ma quello Scusate ho sbagliato Ah si attacca Non mi piace il tipo che cecchina Posso tirargli una mola C'è da qui Ha Loser Bello attaccare senza aver preso la mira Vero Mi piace molto l'arma lunga Mi piace tantissimo l'arma lunga La mola lunga è la mia vita Ma alla fine l'ho fatti fuori tutti Grande Mi sento molto pro Ah quindi ne vengono fuori degli altri Mi viene il dubbio che ogni volta che suoni Suona la campana ne vengono su degli altri Pronti a maciullarmi Devo imparare a essere progressiva Ma come? Vi avete fatto il lavaggio del cervello che è difficile 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 E io ci credo sapete ragazzi Quello che mi dite voi Non si sputtano le molotov così Ah mi dispiace Ma non mi piaceva il tizio lassù in alto Se mi sparava mi faceva fuori Prendevo tutto E dopo non era bellissimo Ci sarà una lanterna qua da qualche parte Eh ma sono anche piena di fiori del sangue Che cosa volete di più? Qui c'è una scorciatoia Ma fammi entrare Che stronti Ma almeno questa qui ride Ehi